Da vacanza studio a Incubo il passaggio è stato breve per 15 ragazzi abruzzesi che partiti lo scorso 7 luglio per la Grecia si sono ritrovati bloccati in un covid hotel di Corfu a causa della positività di alcuni ragazzi del gruppo, come racconta anche l'articolo di Cinzia Cordesco sulle pagine del quotidiano Il Centro di Oggi. Dapprima qualche linea di febbre, qualche starnuto per alcuni di loro, poi l'aggravarsi dei sintomi e l'esito dei tamponi, positivi per sei ragazzi, negativi per gli altri nove. La conclusione però sarà uguale per tutti, quarantena e isolamento in un covid hotel che da martedì ospita tutti, compresi altri vacanzieri di cui molti italiani rimassi bloccati sull'isola di quella che doveva essere una vacanza da sogno e che doveva terminare ieri sera con il rientro in Italia prenotato con un volo aereo alle 19. Dei 15 ragazzi abruzzesi, uno di Pianella, uno di Pescara e gli altri di Montesilvano, molti dei quali vaccinati in attesa di richiamo, rientrerà soltanto un ragazzo con tampone negativo e con il ciclo di immunizzazione completato con la seconda dose. Gli altri, anche quelli negativi con una dose di vaccino già effettuata, dovranno completare l'isolamento nel covid hotel, mentre l'ansia dei genitori cresce per la preoccupazione dei figli che segnalano la mancanza di assistenza nella struttura preposta a ospitarli. Assenza di cure sanitarie e cibo scarso e inadeguato è quello di cui si lamenta la mamma del ragazzo di Pianella, rimasto bloccato a Corfu, pur essendo vaccinato con prima dose e risultato negativo al tampone che si fa portavoce della preoccupazione degli altri genitori chiedendo l'intervento del Ministero per riportare a casa i ragazzi abruzzesi, consentendo loro di ultimare quarantena e isolamento nelle proprie case. Medicinali e cibo scarseggiano, dichiara la donna, contattata telefonicamente. Per sopperire a questa carenza di assistenza con gli altri genitori abbiamo contattato una farmacia del posto per comprare i medicinali di cui i nostri figli hanno bisogno e per farglieli arrivare in hotel con un taxi. Ora cercheremo anche un ristorante della zona che faccia consegne a domicilio per consentire ai nostri figli di nutrirsi adeguatamente, visto che il cibo nella struttura è davvero poco e i ragazzi non possano raggiungere i supermercati del posto a causa dell'isolamento e della quarantena. Dal canto suo il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, spera che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, auspicando un rapido e tempestivo intervento della Farnesina. La situazione qual è? Come vi siete attivati come comune dopo aver appreso questa notizia? In realtà noi siamo stati contattati nella prima mattinata di ieri dai familiari del ragazzo di Pianella che si trova a Corfu e ci ha rappresentato questa situazione e la mia segreteria dopo esserci consultati abbiamo dato le indicazioni alla famiglia sulla procedura da seguire in questi casi e quindi il contatto di riferimento per poter attivare con il Ministero degli Esteri le procedure necessarie. La procedura credo anche giustamente non prevede sovrapposizioni istituzionali, c'è il Ministero degli Esteri che deve occuparsi della vicenda e quindi noi ovviamente siamo consapevoli che le amministrazioni comunali sono il front office del cittadino per qualsiasi cosa, però consapevoli del nostro ruolo dobbiamo anche essere rigorosi e rispettosi di quelle che sono le competenze altrui e quindi limitarci a dare le indicazioni giuste affinché ci possa essere un contatto diretto tra le persone che hanno bisogno di assistenza, i loro familiari e il Ministero che si deve occupare della vicenda, altrimenti rischieremo di sovrapporci anche di essere disfunzionali rispetto all'obiettivo.